Contro la situazione di stallo, circa la mancata composizione della giunta Bonanno III, scendono in campo le organizzazioni di categoria e i sindacati. Si è svolta nella sala riunioni della Confocommercio di Caltagirone una conferenza stampa nel corso della quale le forze sociali e produttive della città hanno ribadito la necessità che il sindaco nomini presto il nuovo esecutivo. Rosario Bruno, presidente della Confocommercio di Caltagirone. La città dal 17 di marzo è senza una giunta, abbiamo la necessità di avere interlocutori con cui poter dialogare, predisporre iniziative, predisporre programmi, sapere quali sono i programmi delle amministrazioni, qualora ce ne fosse una domani e sulla base di questo possiamo concertare. Noi auspichiamo la concertazione, concertazione che in questi due anni ancora non abbiamo visto nascere. Sul fronte sindacale a farsi portavoce delle istanze di CGL e CISL è la segretaria della CGL del Calatino, Concetta Larosa, la cui esponente sindacale sulla scia delle argomentazioni espresse dalle organizzazioni di categoria ha così rimendicato le ragioni del dissenso. Condividiamo uno stato di malessere e di confusione generale dovuto a una mancanza di giunta e di governo di questa città che inevitabilmente rigade su tutti i lavoratori, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, su tutti i lavoratori e le lavoratrici che direttamente o indirettamente hanno rapporti con la pubblica amministrazione e quindi con il Comune in questo caso. Alla conferenza stampa svolta sulla sede della Confocommercio hanno anche aderito la scia, la Confesercenti, la Confagricoltura ed altre organizzazioni produttive, oltre ad alcuni rappresentanti delle associazioni professionali. Francesco Navanzino, presidente della Confartigianato di Caltagirona. La responsabilità è di tutti, la responsabilità è di chi amministrandoci non riesce a dare le risposte che deve dare, la responsabilità è di chi viene a Caltagirona, si prende i voti e va via. Ritorna a Caltagirona quando ha bisogno di essere rieletta, quando ha bisogno di avere nuovamente consensi. Quello che ci manca è il progetto politico, quello che ci manca è un progetto di sviluppo economico, quello che ci manca è un servizio alla città.